Saluta, saluta, questo video andrà su Facebook, Oriano in allenamento al passo tonale, seguiremo una discesa di Oriano, un momento per prendere la seggiovia, vedete che prende la seggiovia, un saluto, bene ci stiamo avviando il seggiovia verso la partenza del gigante, questo giro si farà video e poi andremo a vederlo al bar, Oriano spiegaci cosa devi fare mentre sci. Eccoci siamo pronti per fare video a Toriano e a Fabio. Grazie a tutti. 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 Ok, andiamo a vedere il video.